Andrea Azzeni che tipo di gara è stata l'ultima che ha vinto? Il cavallo è un cavallo abbastanza discreto, un cavallo sicuramente che fa molto più distanza. Le partite all'inizio seguiva bene, poi a metà strada ha cominciato a far fatica. Hanno fatto una natura abbastanza elevata, sicuramente lui è un cavallo che fa più distanza, faceva un po' fatica a seguirli, però in fondo alla fine una volta che si è aggiustato è veniva forte abbastanza bene. Come si prepara per le prossime gare e quali sono i prossimi impegni più importanti che le aspettano? Al momento domani monto a New Market, domani dopo domani c'ho a New Market in Inghilterra e poi la stagione in Inghilterra è mai finita e penso a fine dicembre di partire per l'America per un paio di mesi. Grazie